Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del Tg6 che apriamo con la politica. Forza Italia ribadisce la volontà di tornare alle urne per le elezioni regionali in autunno. Per il consigliere regionale azzurro Mauro Febbo si ricomporrà la frattura con la Lega. Ascoltiamolo al microfono di Paolo Renzetti. Febbo si guarda già alle prossime elezioni, è sciolto il consiglio, il centrodestra ribadisce alla volontà di andare alle urne in autunno. Qualcuno sta cercando di spostare la data delle elezioni che sono sicuramente o l'ultima domenica di novembre o la prima di dicembre perché ci sono tutti i tempi per arrivare a queste che sono date. Non è pensabile spostare le elezioni a gennaio o a febbraio perché chiaramente l'Abruzzo ha molti comuni oltre i millimetri e quindi magari aspettare addirittura marzo. C'è un anno, un consiglio regionale, una giunta che non ha prodotto nulla se non spese per i cittadini con un'economia che è quella che è, l'ultimo dato drammatico, quello delle presenze turistiche, meno 16% come ultimo dato, siamo l'ultima regione d'Italia, l'unica regione insieme a Molise aver costituito negativo è quasi scherza in un cambio di vertice che mi sembra che gli abruzzesi oramai chiedono a gran voce. Capitolo candidati di Forza Italia, ci sono tanti nomi in ballo, c'è anche il suo, quello del sindaco di Chieti di Primio, del sindaco di Pratola di Nino, ci sono tanti nomi, cosa farà Forza Italia in vista di queste elezioni anche e soprattutto dopo la frattura con la Lega in Abruzzo? No, ma non c'è stata nessuna frattura, sono momenti di confronto che magari portano a sembrare un confronto aperto, un tavolo regionale che già si era riunito, si continuano a riunire, andremo con la Lega a cercare il candidato più forte, che dà più certezza della vittoria, che riesce a mettere insieme tutta la coalizione, che ha un programma che tutta la coalizione sostiene, io sono onorato che Forza Italia ha tenuto in concerto il mio nome, vedremo che cosa succederà, siamo soddisfatti del lavoro, almeno per quanto mi riguarda, fatto in questi 52 mesi come opposizione, mi sembra di aver denunciato ciò che stava accadendo in Abruzzo e le mie denunce hanno portato, credo, ad un risultato negativo per chi ha governato e dà la possibilità a chi magari ha esperienza, anche prima di governo e poi di opposizione, di poter presentarsi con un volto diverso. Restando in argomento, si dice preoccupata per il futuro della regione, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi, che il 14 agosto ha inviato una nota alla direzione affari della Presidenza e legislativa per conoscere tempi e modalità di scioglimento del Consiglio regionale, per fare chiarezza sulla data di indizione delle prossime elezioni regionali. Siamo di fronte all'ennesimo tentativo di quello che appare come un sequestro di regione di Ferragosto, prosegue la consigliera Pentastellata. Otto mesi di paralisi istituzionale rappresenterebbero un dramma per l'economia della nostra regione. Il termine massimo è di tre mesi, ma confidiamo che il Presidente della Corte d'Appello, sentito il Vice Presidente della Giunta, scelga una data fra la metà di ottobre e la metà di novembre. E ora sempre in tema di politica ci spostiamo a Pescara dopo l'annuncio del Sindaco Marco Alessandrini di essere disponibile ad un secondo mandato. C'è fibrillazione nel Partito Democratico con il segretario cittadino Moreno di Pesantonio che ribadisce l'importanza dello strumento delle primarie. Vediamo. Il Sindaco Marco Alessandrini ha annunciato di essere disponibile per un secondo mandato come Sindaco di Pescara. Qual è la posizione del segretario cittadino del Partito Democratico? Noi abbiamo detto già più volte, a seguito poi di una consultazione, anche con le varie forze politiche componenti della coalizione di centrosinistra e all'interno del partito, ma anche con il Sindaco stesso. Abbiamo parlato più volte che il momento politico in generale, ma in particolare anche nella nostra città, richiede una consultazione popolare. Quindi semplicemente vogliamo che si ritorni a coinvolgere i cittadini sulla scelta del Sindaco e quest'anno vorremmo fare anche una primaria delle idee, in modo tale che i cittadini possono indicare anche tutta una serie di temi più importanti per la città. Rumors riferirebbero anche della volontà dell'attuale vice sindaco Antonio Blasioli di candidarsi a primo cittadino. Adesso ci sarà sicuramente una ridda di nomi in giro, ma insomma i nomi non li abbiamo fatti e non ci sono. Noi faremo le primarie, dove chiaramente ci saranno una serie di candidati aspiranti legittimi alla carica di sindaco Pescara per tutta la coalizione, non solo del PD. E quindi poi vedremo chi vorrà candidarsi, a cominciare chiaramente dal sindaco Uscede, si vedrà. C'è un momento questo di far ricoinvolgere tutti i cittadini. I cittadini vogliono essere coinvolti, vogliono partecipare, quindi credo che sia una cosa sicuramente utile e che facciamo solo noi, tra l'altro. Noi del centro-sinistra, nessun altro partito, nessun'altra coalizione ha mai fatto questo tipo di lavoro. Di solito scelgono le cose attraverso le piattaforme o attraverso alcuni cenacoli in cui decidono chi dovrà fare il sindaco o altre cariche. Proseguiamo, ora c'è la cronaca. Un ragazzo di 22 anni, residente nel Pescarese, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara in seguito alle gravi lesioni riportate la notte scorsa in un incidente stradale accaduto alle 3.45 in via Adda a Montesilvano. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto da parte delle forze dell'ordine, il giovane che era su uno scooter avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo fuoristrada. Soccorso dai sanitari del 118 è stato poi immediatamente trasferito in pronto soccorso per le prime cure. Ora un altro fatto avvenuto sulle strade abruzzesi, ma nella giornata di ieri, un incidente nel giorno di Ferragosto, incidente avvenuto al chilometro 14 della strada provinciale 14 in località Santa Reparata nel comune di Civitella del Tronto, nel Terramano. Nell'incidente è rimasta coinvolta una Fiat 500L che procedeva in direzione mare, l'auto condotta da un uomo di 64 anni è finita sotto strada facendo un salto di circa 15 metri e dopo essersi ribaltata su di un fianco ha terminato la sua corsa tra arbusti ed alberi presenti lungo la scarpata. L'uomo originario del napoletano, benché ferito, è riuscito a chiamare il 118 per chiedere il soccorso. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, appena giunti sul posto, hanno estratto l'uomo dall'auto per poi affidarlo alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato con un'autoambulanza all'ospedale di Sant'Omero. Successivamente sul posto è intervenuta una autogru dei vigili del fuoco di Terramo che ha effettuato il recupero dell'auto. E ancora la cronaca, ci spostiamo ora a vasto blitz dei carabinieri all'alba, carabinieri che hanno messo fine a un traffico di sostanze stupefacenti gestito da tre famiglie rom, stroncata anche la piazza di San Salvo dove si rifornivano anche assuntori molisani. Il servizio di Manuela Iorio. Blitz all'alba dei carabinieri di Vasto che hanno messo fine a un traffico di sostanze stupefacenti gestito da tre famiglie rom che fanno capo ai bevilacqua, ai di Rocco e a Ederosa. 15 le persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, Gabriella De Lucia. 12 sono finite in carcere, tra loro 7 uomini e 5 donne, altri 2 domiciliari e una persona con l'obbligo di dimora nella provincia di Chieti. L'operazione è scattata alle prime luci del giorno e ha coinvolto anche un elicottero e cani antidroga. Tre le abitazioni individuate dai carabinieri e ritenute i punti nevralgici per lo spaccio soprattutto di cocaina ed eroina. Una casa a San Salvo gestita da tre nuclei familiari, una a Vasto in cui vivono due famiglie e una a Casa al Bordino. L'operazione, condotta insieme al nucleo investigativo di Chieti, ha portato al sequestro di 600 grammi di eroina in 26 dosi preconfezionate, 30 grammi di cocaina e circa 11 mila euro in contanti. Sotto sequestro anche numerosi bilancini di precisione e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. La droga era nascosta in un deposito di legna e in alcune intercapedini dei bagni. Stando alle indagini almeno 40 mila euro il guadagno mensile per ogni famiglia. Un'attività, come spiegato dal PM De Lucia, che coinvolgeva tutti i membri della famiglia. Anche i minori erano a conoscenza dello spaccio. Sono state anche posizionate delle telecamere all'esterno dell'abitazione degli indagati. Si nota proprio un cospicuo via vai appunto di assuntori che in qualunque ora, anche in tardanotte, si recavano all'interno dell'abitazione e uscivano poco dopo. E dal tenore poi del dialogo, delle intercettazioni che negli ambientali poste all'interno delle autovetture, di taluni di questi assuntori e anche dall'attività poi di pedinamento, riscontro, quindi di sequestro, dell'attività stupefacente, si aveva modo di appurare che appunto questi accessi, anche notturni, erano finalizzati all'acquisto di sostanza stupefacente. L'eroina veniva venduta a 20-25 euro a grammo, la cocaina a 80. In alcuni casi veniva pagata anche con oggetti di valore come gioielli e televisori di provenienza illecita. Molti assuntori arrivavano anche dal Molise, come spiegato dal comandante della compagnia di Vasto, Amedeo Consales. Assuntori che arrivavano anche dal Molise? Anche dal Molise c'era un assuntorio o da altre parti della provincia di Chieti, sono stati fermati tossicodipendenti molisani, non dell'Alto Molise ma del nord del Molise, che appunto venivano in San Salvo, prevalentemente in San Salvo per quanto riguarda i molisani ad approvvigionarsi di sostanze per uso personale. Il 13 agosto ho inoltrato l'ennesimo sollecito alla provincia di Chieti per la messa in sicurezza della strada provinciale che dall'autostrada conduce verso l'interno, l'ultima di una lunga serie di lettere sempre inascoltate solo 24 ore dopo la tragedia di Genova. Noi non intendiamo celebrare tragedie. Lo afferma il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo il crollo del ponte Morandi a Genova in una lettera inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Il primo cittadino prosegue. A seguito degli eventi sismici dello scorso anno, i due ponti ivi presenti hanno subito delle modifiche strutturali, tanto che tra la sede stradale e gli stessi si è creato un dislivello che con il passare del tempo va aumentando sempre di più. Ho inoltrato all'ente competente, la provincia di Chieti, numerose sollecitazioni per un intervento immediato di messa in sicurezza, ma fino ad oggi nulla è stato intrapreso. Pertanto chiedo al Ministro di intervenire in una situazione di stallo che sta mettendo in serio pericolo i miei cittadini. Sempre sullo stesso argomento, all'Aquila il sindaco Pierluigi Biondi ha inviato una lettera indirizzata a Strada dei Parchi e SPA per chiedere una relazione sullo stato delle manutenzioni preventive e programmate delle infrastrutture autostradali, nonché dell'attività di diagnostica di viadotti, ponti e gallerie nel tratto di A24 ricadente nel territorio comunale. E ora cambiamo pagina, dopo l'approvazione della legge sull'istituzione della nuova Pescara alcuni amministratori di Città Sant'Angelo hanno avanzato l'ipotesi di un allargamento della città metropolitana anche al centro angolano. Il primo cittadino, Gabriele Florindi, si dice favorevole a patto che ci sia una consultazione popolare, il servizio. La legge sulla nuova Pescara è cosa fatta ormai già da qualche giorno dopo l'approvazione in Consiglio e c'è chi pensa di allargare questa nuova Pescara anche a Città Sant'Angelo. Qualche amministratore ne ha parlato e si è detto possibilista. Qual è la posizione del primo cittadino di Città Sant'Angelo? Innanzitutto tengo a precisare, anche se tutti già lo sanno, che se un domani Città Sant'Angelo dovesse o volesse entrare nella Grande Pescara lo potrebbe fare solo, esclusivamente dopo aver sentito la sua popolazione con un referendum popolare. Io nel 1985, quando ho iniziato a fare la mia carriera politica, partecipai a una riunione all'Università di Chieti dove si parlava di area metropolitana, quindi parliamo di 30 anni fa dove già si aveva una visione di insieme. Ma io porterei ulteriormente all'attenzione dei nostri telespettatori anche il fatto che esistono in Italia già le città metropolitane, quindi già buona parte di queste cose è legge. Quindi Città Sant'Angelo, avendo l'uscita Pescara Nord, avendo il polo commerciale forse il più importante d'Abruzzo, non è vero che farà la periferia della Grande Pescara, ma può giocare un ruolo importante per questo nuovo contesto, questa nuova configurazione politica. Quindi ai posteri il futuro speriamo che ci sia una visione globale e che i campanili che fino adesso hanno bloccato alcune realizzazioni importanti, vedi il casello autostradale, vedi altre realizzazioni, vengono in qualche maniera superate. Quindi Gabriele Florindi, da sindaco ma anche da cittadino, se domani si dovesse andare a votare, ci dovesse essere un referendum, voterebbe sì? Io voterei sì perché secondo me è il futuro che ce lo impone, cioè con le esigue risorse che hanno gli endi con i trasferimenti da parte dello Stato che vengono sempre meno, con un discorso di unione, queste cose potrebbero migliorare di gran lunga i servizi da dare e dedicare ai nostri cittadini. Scatterà il prossimo 23 agosto la 724esima edizione della perdonanza all'Aquila, già ha svelato il nome della Dama della Bolla, la campionessa paralimpica Paola Protopapa. Su questa scelta e su altri dettagli organizzativi della manifestazione ascoltiamo l'assessore comunale alla cultura Sabrina Di Cosimo nel servizio di Germana Dorazio. È stato presentato il programma della perdonanza, una perdonanza che vedrà tante novità, prima fra tutte la Dama della Bolla, un'atleta paralimpica, per cui questa scelta? Perché lei è protagonista e testimone nella sua vita di tante volte in cui è caduta e si è rialzata, ha avuto questo problema con la sua disabilità e da donna forte, determinata e coraggiosa non si è resa ma addirittura si è messa in gioco, appunto diventando campionessa olimpica e vincendo in tre specialità diverse. Come lei stessa ha messo, le successive due specialità in cui ha vinto neanche le aveva mai immaginate nella vita di doverle praticare e io oggi scherzando, siccome ero un po' emozionato gli ho detto vedrai, hai già affrontato tantissime prove nella tua vita, hai raggiunto grandissimi risultati che potrai affrontare anche la quarta disciplina, fare olimpica, fare la Dama della Bolla. Per la città è un grande onore perché è simbolo proprio di resilienza, appunto come reagire a qualcosa, a una tragedia che nella vita personale ti tocca e lei, Paola, è stata bravissima, si è rialzata e da donna forte, determinata e coraggiosa ha preso in mano la sua vita e ne ha fatto diversi successi e questo sarà anche di nuovo per lei un grande compito, una grande sfida che da atleta ha accettato e ovviamente sono certa che porterà a termine con grandi risultati. Tanti gli eventi, soprattutto quelli con grandi nomi, ci sarà un protocollo di sicurezza che sarà stabilito insieme alla Prefettura ma ci sarà anche la novità della possibilità in qualche modo di prenotare il posto, soprattutto rivolto a disabili, a persone anziane, persone bisognose di poter godere di uno spettacolo sedute. Come funzionerà? Stiamo approntando appunto un sistema informatico per poter permettere delle prenotazioni online e ovviamente si sta ancora approntando quindi non possiamo ancora dare i riferimenti, però sarà un modo per in qualche modo certificare anche la presenza fisica dell'individuo, quindi la prenotazione avverrà con la certificazione di un documento di identità e quindi ognuno potrà prenotare per se stesso. Saranno aiutati e tutelati tutte le persone anche anziane o poco tecnologiche con l'aiuto dell'Infopoint e di altri punti negli uffici comunali. Abbiamo voluto in qualche modo, grazie anche a degli ammorbimenti delle procedure di tecnica di sicurezza, siccome possiamo portare addirittura 10.000 persone al prato di Collemaggio, ci saranno sicuramente dei controlli al barco e quindi dei conteggi e dei contapersone, ma sarà sicuramente una cosa un po' più morbida, ecco, diciamo, delle procedure troppo rigide dell'anno scorso e quindi potremo godere anche con uno spirito più sereno questi grandissimi eventi. Sarà Teo Teocoli uno dei nomi principali del Festival del Teatro Comico che torna a Sant'Omero dal 22 al 24 agosto prossimi. Vediamo. Inizia il conto alla rovescia per il Festival Nazionale del Teatro Comico, un lavoro lungo un anno, ma finalmente sindaco ci siamo. Anche quest'anno, dopo il successo della passata edizione, nel 2017, abbiamo registrato proprio qui a Sant'Omero circa 3.000 presenze con nomi importanti come Cirilli, Fubelli e Dado. Quest'anno si replica con nomi davvero di grande grido. Assolutamente sì, diciamo, nell'ottica della continuità di questa amministrazione comunale riproponiamo il Festival Nazionale del Teatro Comico qui a Sant'Omero nelle serate dal 22 al 24 agosto. Tre serate caratterizzate da un calendario di assoluto rilievo che vedrà interessare il palco in Piazza dei Curtis, artisti della comicità nazionale del calibro di Alberto Farina, Oscar Biglia, Gianni Astone, Giovanni Cacioppo e nella serata conclusiva Teo Teocoli con la sua band. Credo che questa sia una manifestazione che conclude un po' e costituisce anche il momento più importante del calendario estivo degli eventi santomeresi. L'abbiamo introdotto come amministrazione comunale, cioè quella della gratuità dell'ingresso e questo lo facciamo perché riteniamo che sia un momento di difficoltà economica per le famiglie e quindi per i nostri cittadini è un momento di spensieratezza necessario durante la pausa estiva e per i turisti è un momento per ospitarli qui a Sant'Omero e fargli visitare quelle che sono un po' le nostre bellezze turistiche. È un'iniziativa decisamente importante che ha un'evidenza vibratiana di tutto rispetto in considerazione anche della storicità ma che va anche oltre la regione Abruzzo e oramai ha una canonicità nazionale. Il Teatro Comico di Sant'Omero è comunque una manifestazione che dà lustro e l'evidenza alla nostra terra e comunque la val vibrata ed è un'opportunità all'interno di un'offerta che può essere considerata sicuramente turistica per chi in questo periodo soggiorna sul nostro territorio. Dunque vi aspettiamo qui a Sant'Omero dal 22 al 24 agosto alle ore 21 in Piazza dei Corti. Apriamo ora la pagina dello sport, parliamo di Pescara, c'era anche l'ultimo arrivato Matteo Cioffani stamani in gruppo alla ripresa degli allenamenti. Domani alle 20 ci sarà lo stop della sessione estiva di calcio mercato, il Baby Elisalde è vicinissimo alla Juventus mentre è sempre più probabile la permanenza di Brugman che nelle ultime ore è stato accostato al Parma. Per il ruolo di vice Fiorillo è vicino l'acquisto del portiere classe 83 Simone Farelli, ex Latina in questo momento svincolato il servizio. Ripresa degli allenamenti stamani per il Pescara. Agli ordini del tecnico Beppi Pillon la squadra sosterà doppie sedute nella giornata di oggi e domani mentre sabato pomeriggio disputerà un test in famiglia. La prossima sarà invece la settimana tipo che porterà al debutto in campionato di Cremona al netto di ricorsi e paventati scioperi che rischiano di far slittare la prima giornata. Da stamani si è aggregato al gruppo il terzino Matteo Cioffani, il difensore originario di Avezzano arriva dal Frosinone nell'ambito dell'operazione che ha portato in ciociaria Francesco Zampano. Per Cioffani si tratta di un ritorno nella squadra che lo ha fatto crescere al pari del fratello Daniel nella primavera di Cetteo Dimascio ed ha il massimo della stima del tecnico Pillon che lo ha allenato ad Ascoli nella stagione 2009-2010. Ma le situazioni più calde sul fronte mercato in vista delle ultime due giornate di sessione estiva sono in tinta uruguaiana. Edgar Elisalde e Gaston Brugman. Per quanto riguarda Elisalde nelle ultime ore si è fatta avanti in maniera prepotente la Juventus che vorrebbe accaparrarsi il millennial uruguagio, riduce le ottime prestazioni nel sub-20 giocato in Spagna lo scorso mese e autore di un'ottima prova domenica scorsa contro il Chievo. Elisalde potrebbe rientrare nel progetto Juventus B e disputare con la squadra di Zironelli il campionato di Serie C. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Elisalde stamani era al poggio ad allenarsi con il resto del gruppo ma nelle prossime ore lo scenario potrebbe cambiare. Gaston Brugman in queste ore è associato al Parma anche se il DS Ducale Faggiano ha smorzato queste voci. Peraltro una cessione pesante come quella di Brugman non sarebbe facile da compensare a poche ore dal gong del calciomercato. Dunque è probabile che il capitano del Delfino resti in riva dall'Adriatico. Circa gli altri fronti in attacco si era scritto di un presunto interesse del Pescara per l'amantia. Rumors durati poche ore perché il centravanti ormai ex Entella si è accasato al Lecce. Resta in piedi l'ipotesi Scamacca anche se sul Gigante del Sassuolo oltre all'Ospezia c'è anche l'Udinese. Peraltro nel ruolo di centravanti il Delfino ha tre alternative Cocco, Monachello e Bunino ed è difficile pensare ad altri ingressi se non ci saranno prima delle uscite. Ma anche in questo caso il tempo per approntare queste eventuali operazioni inizia a scarseggiare e comunque Cocco sta convincendo in questo precampionato e su di lui Pilon vuole puntare. Serie C seduta odierna pomeridiana per il Teramo che riprenderà la preparazione in vista del match di Coppa Italia in programma domenica alle 17.30 a Rieti. In occasione della partita su disposizione del commissario della Federcalcio sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia di Genova. Intanto l'attaccante Biancorosso, Alessandro Fratangelo, parla della nuova stagione e del suo impiego nel tridente offensivo di Zichella. Ascoltiamolo. Beh è normale, con il passare degli anni è normale che assumi sempre più responsabilità perché comunque non sei più un giovane tipo due anni fa che avevo 18 anni, ero nelle prime armi diciamo. È normale che con il passare degli anni acquisti più responsabilità e ci si aspetta sempre di più da me e spero che nel campo riesco a ripagare tutte le responsabilità che mi danno. Io nasco da esterno, poi il mister mi ha provato anche punta centrale dove mi trovo abbastanza bene, però a ogni occasione poi vediamo come vanno le situazioni, io mi trovo da tutte le parti diciamo. No, diciamo che con le caratteristiche che ho, entrare a partita in corsa con la velocità che ho comunque è buono, riesci a spezzare la partita, magari a fare qualche occasione, non lo so. Però comunque giocare dal primo minuto è tutta un'altra cosa, acquisti più coraggio, acquisti più fiducia in te stesso e riesci anche a giocare meglio diciamo. Però comunque entrare in partita in corso e cambiare la partita comunque è molto utile per la squadra e anche per te stesso, per la fiducia e per tutto. Io voglio vincere tutte le partite, a me non piace né perdere né pareggiare perché mi nervosisce perdere, però comunque ogni partita va vissuta diversamente da ogni altra e quindi vediamo come si mette la situazione e andiamo lì con la testa a vincere la partita. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 tra poco saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Il TG torna con le prossime edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per averci scelto. Grazie per aver guardato il video.